Sì, sono contentissima anche perché non me l'aspettavo. È stata una gara molto molto strana. In pedana faceva molto freddo e credo che la qualificazione di ieri ci abbia stancato un po', un po' a tutte. Questo dà comunque una confianza per la stagione esteriore. Sì, diciamo che devo mettere ancora a posto qualcosa nella rincorsa e soprattutto spero che il tempo sia clemente da noi in Italia. Perché è stato un brutto tempo. Io mi alleno sempre all'aperto. Grazie tanto. Grazie. Arrivederci.